Su tutte le persone che qui verranno accolte, su quanti se ne prenderanno cura, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Dieci nuovi posti letto di medicina d'urgenza riservati ai ricoveri di pazienti la cui degenza sia non superiore alle 72 ore. Sei nuovi posti letto di osservazione breve e intensiva dedicati a pazienti la cui degenza va dalle 6 alle 44 ore. La nuova ala del pronto soccorso dell'ospedale di Micro di Barletta, inaugurata questa mattina, rappresenta uno dei presidi sanitari maggiormente all'avanguardia dell'intera Puglia. In questo modo i pazienti che afferiscono al pronto soccorso di Barletta, quelli più critici, possono essere gestiti in questa zona del nostro pronto soccorso e quindi stabilizzati, per poi, a seconda di quello che viene riscontrato dagli operatori sanitari, essere dimessi oppure ricoverati nei reparti ospedalieri. Ai nuovi posti letto si sono aggiunti il telecomandato per esami radiologici d'urgenza. È una TAC di 128 slice. Un macchinario, quest'ultimo, altamente performante, che, unito alla radiologia tradizionale e all'imminente installazione dell'ecografo multidistrettuale, offrirà un servizio maggiormente efficiente alla numerosa utenza. Questo sicuramente agevolerà il percorso del paziente dall'accesso in pronto soccorso alla fase di diagnostica, trovandosi la radiologia d'urgenza nelle immediate vicinanze del pronto soccorso. La struttura è inoltre il primo ospedale pugliese ad aver attivato il percorso Fast Track, a gestione infermieristica. Sono loro a svolgere l'accettazione dei pazienti, svolgendo un primo triage, consentendo così un abbattimento delle attese dei codici minori. I pazienti che arriveranno qua avranno il meglio delle cure possibili, il meglio dell'assistenza tecnologica e strumentale possibile. Chiedo soltanto ai cittadini, colgo l'occasione per chiedere ai cittadini di rispettare i medici a pronto soccorso, che lavorano 365 giorni all'anno, che vedono 50.000 persone all'anno, che vedono tutti i problemi, non soltanto di natura medica, ma anche sociosanitaria. Quindi li invito ad avere rispetto del loro lavoro. Potenziamento della struttura provinciale sanitaria, che diventa particolarmente rilevante a seguito della tragedia avvenuta ieri mattina sulla strada Andiatrani, che ha visto due giovani andriesi perdere la vita e altri sette ricoverati tra Andrea Barletta e Biceglie. I giorni purtroppo abbiamo assistito ad un gravissimo incidente che ha interessato il nostro territorio. Purtroppo abbiamo anche avuto due decessi di due ragazzi molto giovani, siamo vicini alle famiglie, quindi il nostro territorio è in lutto. L'azienda è riuscita comunque a dare una risposta celere e immediata. Sui nostri tre presidi di Andrea, di Barletta e di Biceglie, i feriti sono stati immediatamente stabilizzati e poi trasferiti alcuni al Policlinico di Foggia, altri al Policlinico di Bari, a seconda di quelle che erano le necessità che i pazienti riscontravano.